Ciao, ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi è una chiacchierata davvero molto veloce per salutarvi, è qualche giorno che non pubblico video, ma mi sono presa qualche giorno di pausa per stare con la mia famiglia in questo bel ponte lungo, per fare qualcosa insieme, per riposarmi un po', per leggere, insomma, per rilassarmi un pochettino. Volevo mostrarvi un kit che mi è stato inviato da testare e dei piccoli acquisti che ho fatto su Bottega Verde e in una profumeria di nicchia, chiamiamola così, della mia città, perché in questi giorni sto guardando un po' di video di tante amiche e tanti amici che provano dei profumi di nicchia e io ovviamente mi sono incuriosita e sono andata un po' a cercare, perché se compro al buio i profumi lo costo, ovviamente quelli di nicchia, visto che hanno anche un certo costo, comunque quelli artigianali, vi vorrei provare, testare e capire se possono piacermi oppure no. Partiamo però subito dal kit che mi è stato inviato da provare, probabilmente lo conoscete già perché è già stato mostrato da tante amiche, ho avuto la fortuna anch'io di riceverlo in regalo per provarlo ed è il kit idratante alla bava di lumaca della Imim. Di Imim io ho già provato il contorno occhi, il due contorno occhi, mi sono trovata benissimo, l'ho trovato quasi miracoloso, ma non solo io, ve l'avevo già detto, anche tante amiche che l'hanno provato e anche tante amiche che mi seguono sul canale ma che non hanno un canale proprio, l'hanno provato, l'hanno acquistato e si sono trovate benissimo. Quindi, avendo ricevuto questo kit, sono molto contenta perché sono quasi certa che è una meraviglia. L'ho ricevuto tre giorni fa, lo sto iniziando a provare in questi giorni, al momento vi dico che lo trovo veramente buonissimo, però voglio avere ancora qualche giorno di tempo per provarlo. Questo è il siero alla bava di lumaca, è un siero abbastanza denso, molto corposo, ma una volta che lo stendete, vedete, è molto denso, io lo trovo bellissimo, a me piace la bava di lumaca, e si assorbe benissimo, non rimane appiccicoso. In questi tre giorni in cui lo sto testando, mi sta piacendo tantissimo, lo metto sia la mattina che alla sera, si assorbe, vi lascia la pelle morbida, molto idratata, è un kit idratante e riparatore alla bava di lumaca. Al momento, come vi ho detto, mi sta piacendo, voglio riservarmi ancora qualche giorno per poi potervi dare le mie impressioni definitive. Qui si è già assorbito, non è unto, non appiccica, e questa è la crema che ha la tipica consistenza, aspetta, faccio una fatica ad aprirla, ho paura di rompere tutta la confezione, ha la tipica texture delle creme alla bava di lumaca, quindi abbastanza filamentosa, il pack è molto elegante, molto bello. Ora ve la faccio vedere, eccola qua, come vedete è molto filamentosa, mi sta piacendo, adesso non la voglio consumare, mi sta piacendo tantissimo, la uso anche come base crema alla mattina per il trucco, e la prima impressione è ottima, ma poi confermerò sicuramente questa impressione. Si assorbe, anche se sembra molto corposa sul viso, non è pesante, mi sta piacendo un sacco, ma poi ci risentiremo sicuramente per il test finale. Il tutto vi viene consegnato in questa bellissima scatolina nera molto elegante, questo è tutto il kit, ecco qua, ma poi ci ritorneremo. Ecco, per questo kit, come per il kit che mi era stato inviato del contorno occhi, ci è stato dato uno sconto del 20% per il canale, e io nel frattempo comunque lo inserisco già in questo video, ma poi, come vi ho detto, avremo modo di parlarne in maniera più approfondita in un video specifico, dopo averlo testato per qualche altro giorno. Comunque trovate tutte le indicazioni, sia dell'azienda che del prodotto, che si acquista su Amazon con lo sconto del 20%, e quindi per comprare questo, siccome mi è arrivato un buono da 5€, ne ho approfittato, ne ho approfittato ed ho comprato sia questo, poi uno struccante bifasico al lampone e mirtillo per gli occhi, occhi sensibili, questo non l'ho ancora provato, e visto che c'era, ne avevo sentito parlare da Mauro, ciao Mauro, grazie sempre per tutte le info, e tutti i consigli che ci dai, ho comprato i 4 profumini, allora, quello che ha provato Mauro, se non ricordo male, era questo, fior di menta, però non ne sono sicura, perché adesso come adesso non mi ricordo benissimo, li ho trovati innanzitutto molto carini, nelle loro confezioni, quindi adatti anche a dei piccoli regalini, magari a delle ragazze, o ad un'amica, se si vuole fare un pensierino, perché la scatoletta è veramente, veramente carina, poi avendo questo buono di 5 ore in omaggio, effettivamente sono costati di un po', quindi li proverò con voi, ma proprio così, per darvi, per sentire che profumo ha, userò una moillette, si chiama, o comunque cartina, per sentire il profumo, anche se io sono convinta che comunque il profumo quando si mette sulla pelle, molto fresco, la menta si sente, ma ci sento anche un fiorito, poi vabbè, le note non ve le dico adesso, adesso proprio solo per farvele sentire, cioè per farvele sentire no, per sentirle io, e buono, buono buono buono, e poi secondo me in questo formato, sono anche molto comodi, nel senso che si consumano velocemente, secondo me sono profumi adatti per l'estate, profumini, mi piace anche molto come si chiamano, questo quindi è alla fior di menta, poi abbiamo, fiori segreti, vediamo se ci dice qualcosa in più, un piccolo profumo, dal carattere decisamente irresistibile, tra pompelmo e violetta, con un amore incredibile, vediamo dall'altra parte, la moglietta, sono belli durini, mmm, che buono, pensavo di sentire tanto la violetta, invece no, si sente il pompelmo, mmm, poi esce il profumo della violetta, però, a me il profumo della violetta, non è che piaccia tantissimo, mi ricorda un po' la mia nonna, non che la mia nonna non mi piacesse, però, mi dà l'impressione di essere un profumo un po' antico, invece, troppo carino, poi abbiamo, i fiori d'acqua, e qui dice, un piccolo profumo, dal carattere decisamente delicato, una cascata di petali di gelsomino, e fior di loto, un sogno di profumo, dopo andiamo a vedere quello alla minta, perché non l'avevo letto dietro, sono anche attrezzata, uh, fresco anche questi, questi sono perfetti, per l'estate, che buoni, delicati, non tanto forti, non invadenti, mmm, buonissimo, buono buono buono, poi sono molto carini, guardate che bellini, adesso andiamo a rivedere cosa c'era scritto su quello alla menta, allora, un piccolo profumo, dal carattere decisamente travolgente, l'intesa perfetta tra mughetto e menta, ecco allora si si sentiva il mughetto, e l'ultimo, fiori dell'alba, un piccolo profumo dal carattere decisamente brillante, pera e rosa insieme, sono davvero grandiose, vediamo se è vero, vediamo se è vero, questa l'ho già usata, questa, questa no, mamma, ma sono splendidi, che buoni, allora, come prima impressione mi piacciono tutti, quelli che al momento preferisco, così è proprio un passant, sono questi due, ma mi piacciono molto anche gli altri, e poi come ultimo, ve l'ho detto che era una chiacchierata veloce, mi sono comprata in profumeria, questo discovery set di acqua dell'ario, io non lo conoscevo, da ignorante quale sono, non ne avevo mai sentito parlare, è proprio un set con otto fragranze, di questo laboratorio che ha sede a Como, quindi sicuramente una profumeria del territorio, e già questa cosa mi piace, ma la cosa che mi piace di più, è che qui sono inseriti i nomi dei profumi, che ricordano i venti che scorrono sul mio lago, o sul lago di Como, che poi sfocia nel lago di Lecco, e quindi sono veramente molto curiosa, adesso non li proverò, perché volevo fare proprio un video dedicato, perché ho deciso di farmi regalare per il mio compleanno, che sarà tra poco, a fine maggio, sicuramente un profumo che sia un profumo artigianale, o comunque di nicchia, non so bene la differenza, o se la profumeria di nicchia, diciamo, ingloba anche la profumeria artigianale, e quant'altro, io li chiamerei di nicchia, però correggetemi se sbaglio, e i nomi sono Ventone, Liscione, Bellanasco, Tivano, che è un vento che io conosco molto bene, Molinaccio, Menaggino, Garzeno e Breva, allora, i due eventi famosi, diciamo, sul lago di Lecco, sono il Tivamo e la Breva, però sono anche molto curiosa di sentire le altre profumazioni, li sto testando giornalmente, devo dirvi che sono dei profumi davvero molto particolari, e pensavo già di fare il video, dividendo quelli che sono i profumi per me più adatti alla stagione estiva, e quelli invece che magari, sempre per mio gusto, sono più adatti alla stagione autunnale, invernale, anche se io, sui profumi, non sono molto stagionale, perché, quando mi piacciono, comunque li metto, a meno che non ci siano 50 gradi all'ombra, ebbene, come vi ho detto, chiacchierata molto veloce, per salutarvi, per farvi vedere questi piccoli nuovi acquisti, e i prodotti, appunto, che mi sono stati inviati da testare, ma poi anche di questi, ne riparleremo, e, nulla, per augurarvi buon proseguimento di giornata, buon proseguimento di settimana, che sarà una settimana corta, perché poi anche la prossima settimana, lavoreremo un giorno in meno, molto bene, e vi do appuntamento al prossimo video, vi saluto e vi mando un bacio grande, ciao e grazie!